Ciao ragazzi, lei è Uela Uela Siamo estrofolati in una festa No, abbiamo l'invito Diamo l'invito Siamo passati l'invito Stiamo a vedere qui da Max Mara Stiamo guardando un po' come è tutto la pietra Vedete faccio una panoramica Tutta la gente in cerco di destra Come me Non è l'edicolo Molto riso Molto riso Non è l'edicolo Tutto me ovviamente Tutto me ovviamente Per me E' vero, vi faccio vedere Cioè, Barboni, questo posto non è gelbo, state a casa Noi abbiamo l'invito vinto, ok? Barboni Questi posti davvero sognati Noi siamo così, viviamo nel lusso Anche se non abbiamo un euro Ma sappiamo come muoverci per andare con il lusso Questa parola lusso Senti come è bella? Lusso Io amo il lusso ragazzi Per pubblicare miliardare di dare un po' lusso Ma ci si può arrivare anche in altri mondi Bellissimo Grazie alla signora Silvia Che ci ha passato l'inviti per partecipare a queste ritori Feliz Grazie anche alla signora Wendt Slam La nostra dedica